Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Torna a farsi sentire la sempre presente e immarcescibile Ellie Schlein, nuovo segretario del Partito Democratico, punto d'approdo della metamorfosi neoliberale delle sinistre, della New Left Fucsia, per abitatori della ZTL, viaggiatori della business class e villeggianti di Cortina d'Ampezzo. E' tornata a farsi sentire, sulla Sette compare un suo video sul sito di La Sette, in cui dice la frase in cui si compendia, a mio giudizio, il grande inganno della New Left ultraliberista, cosmopolita, nemica delle classi lavoratrici, amica del capitale, nemica della lotta di liberazione nazionale dei popoli oppressi, amica dell'imperialismo made in USA. Dice Ellie Schlein, ed è anche il titolo del video, lo trovate sul sito della Sette, testualmente, diritti sociali e diritti civili sono inseparabili, sono per il matrimonio egualitario per ogni tipo di coppia. In sostanza questo sta dicendo Ellie Schlein, ed è una frase rivelativa in sostanza, perché in realtà Ellie Schlein non si occupa né di diritti sociali né di diritti civili, deve essere chiaro, ma solo di capricci arcobaleno, per happy few, per rarinante singurgite vasto, se preferite, per i salvati, non certo per i sommersi. Ecco, è l'emblema di una sinistra che di fatto si occupa di quei diritti cosmetici che le classi dominanti lasciano a loro in gestione, dato che le classi dominanti, lassù ai piani alti, nell'Olimpo della globalizzazione neoliberale, amministrano monopolisticamente, autocraticamente, la questione del lavoro, della società e dell'economia, e poi lasciano a modi distrazione di masse e di contentino alle sinistre fucsia neoliberali, alle destre bluette neoliberali, dato che anche Zai, avete visto ultimamente, si è interessato molto alla questione dell'arcobaleno, la gestione di diritti, o meglio, di capricci di consumo, che direbbero nella mia Torino, fanno fine, non impegnano, perché di fatto non toccano e neanche menzionano la contraddizione di classe economica. Ecco, l'identikit perfetto di una sinistra dell'irrilevanza, di una sinistra che è distante dalle classi lavoratrici e dal popolo, come lo è Marte da Plutone, una sinistra che finisce per rendere superflua addirittura la stessa destra, che si trova spiazzata, la sinistra riesce ancora meglio a rappresentare gli interessi del potere rispetto alla destra, la visione del potere, quindi la destra si trova permanentemente spiazzata in questa fase, perché viene superata a destra, se così vogliamo dire, dalla sinistra, e l'Ischlein rappresenta al meglio questa New Left di completamento del rapporto di forza dominante, una New Left che è di fatto cosmopolita e filocapitalistica, non ha più una sola parola da dire per i diritti sociali e nemmeno per i diritti civili, ma chiama diritti civili i capricci di consumo per ceti abbienti.